L'allenatore del Catania, del Duca, ha detto che abbiamo vinto contro una grande squadra. Le ringrazio, loro non sono da meno. Oltre tutto oggi si presentavano davanti a questo splendido pubblico e che dire, ci sono stati superiori oggi. Niente da dire sulla vittoria, su come hanno giocato. Noi magari potevamo rientrare in partita dopo un approccio, diciamo così un attimino titubante, però purtroppo poi dei piccoli infortuni non ci hanno rimesso più dentro la gara e loro l'hanno gestita alla grande. Niente da dire, complimenti a loro. Mario, io devo dire che sotto il profilo tecnico la sua squadra, un po' sotto la parte realizzativa, ha avuto delle difficoltà, però dall'altra parte ha incontrato uno spada che nei momenti decisivi della gara ha fatto degli interventi veramente incredibili. Forse la differenza oggi sta proprio in questo, perché nel numero delle occasioni non credo siamo stati inferiori. Dall'altra parte oggi c'è stato un portiere, diciamo così, che non ci ha fatti rientrare in gara, mentre il nostro magari ha avuto qualche infortunio, però è andata così, così è, lo prendiamo così.